Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. I numeri del contagio in Abruzzo sono fortemente condizionati dalle giornate del fine settimana, cosa normalissima così come accade ormai da quasi due anni. Oggi infatti i nuovi positivi al Covid-19 sono stati 192 in tutta la regione. Il dato però scaturisce dai pochi test esaminati, sia tamponi molecolari che antigenici, che sono stati 1.763 complessivamente. Tutto questo ha dato un risultato della percentuale di contagiosità pari al 10,9%, in linea tutto sommato con il resto d'Italia. Visti i pochi positivi, il dato si ripercuote sulla ripartizione territoriale nella regione. La provincia con il numero più alto di casi è quella di Chieti, dove i nuovi positivi sono 67. Poi c'è la provincia di Pescara con 44, l'Aquilano con 36 e infine la provincia di Teramo con 34. Quattro sono i casi provenienti da fuori regione, mentre sono sei quelli per i quali sono in corso delle verifiche. Purtroppo oggi è pesante il bilancio riguardante i decessi. Sono sei le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Si tratta di decessi avvenuti due in provincia di Chieti e Teramo, uno in provincia di Pescara, mentre l'altro decesso è risalente ai giorni scorsi. Il numero complessivo delle vittime del Covid in Abruzzo dall'inizio della pandemia sale così a quota 3.323. Ancora in calo i ricoveri ospedalieri. Oggi sono tre in meno rispetto a ieri quelli nelle terapie non intensive, dove i letti occupati sono adesso 202. Invariato invece resta il dato riferito ai ricoveri nelle terapie intensive, dove attualmente i pazienti sono 10. Diminuiscono di 467 unità coloro che si trovano in isolamento domiciliare e il totale diventa di 21.260. Alto anche oggi il numero dei guariti, che supera di gran lunga il numero dei nuovi contagiati. Oggi sono 655 coloro che hanno risolto il problema con il virus e questo fa sì che il numero degli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei contagiati il numero dei guariti e dei deceduti, sia di ben 470 unità minore a ieri, per un totale di 21.472 attualmente contagiati dal Covid. Grazie a tutti.